dividendi perché con Domenico stiamo facendo questa live in contemporanea su vari canali e quindi non so, ti do il benvenuto Domenico, sì dai benvenuto Grazie, grazie Francesco per l'invito, no dobbiamo essere onesti, l'idea è stata di Francesco che ovviamente mi ha invitato sul suo canale Twitch, poi io ne ho approfittato, mi sono preso tutto il braccio e l'ho spammato ovunque con tutti i canali perché ho queste idee di megagalattiche e di andare tutti i canali contemporaneamente però Ma va bene, va bene, ho chiesto a Domenico, volevo fare una live, una serata sugli ETF questo strumento interessante che potenzialmente può permettere di creare una rendita investendo del denaro anche con sistemi di accumulo, ne parleremo questa sera e quindi avere poi una rendita automatica con un certo, ammontare una certa somma messa da parte, è molto interessante come tecnica per vivere senza lavorare e allora ho detto perché chi meglio di Domenico che appunto mi aveva parlato di questo strumento che io non l'avevo mai utilizzato, chi meglio di Domenico poteva appunto istruirci un po' su questo argomento e allora facciamo una live insieme e sono stato molto contento che abbia accettato nonostante appunto fosse stanco perché stai eseguendo un trasloco e quindi è stato comunque molto coraggioso allora Domenico, senti, questa sera parliamo di questo strumento ETF un potenziale strumento per accumulare del denaro e per avere delle rendita automatiche magari simili ad altri modi per investire ed avere dei guadagni fissi, mensili, annuali come possono essere un investimento immobiliare o altre cose di questo tipo quindi vorrei proprio questa sera che facessimo una live dove spieghiamo proprio a chi a secco a secco a terra a terra e che non sa proprio niente di questo strumento cos'è qual è l'approccio da migliore per, o secondo te migliore per investire in questo strumento dove si trovano questi ETF, come si scelgono, quali sono i parametri di scelta poi come si acquistano fisicamente e poi quali sono i problemi quali sono appunto i rischi che si corrono e anche poi la tassazione, come si tassano i guadagni quindi una panoramica che uno alla fine della live dice va bene ho capito questo strumento, so che devo studiare ovviamente perché come ho detto strumenti finanziari so che devo studiare, però l'ho capito può interessarmi ecco, una live molto formativa ti domando quindi per iniziare proprio se ci spieghi di cosa si tratta, cosa sono gli ETF Innanzitutto sono molto contento che stiamo facendo questo, stiamo trattando questo argomento che poi è uno di quelli più importanti per tutti i piccoli investitori e risparmiatori perché comunque è il metodo, se vogliamo, anche più facile, più immediato per accedere ai mercati finanziari e soprattutto anche psicologicamente più facile da gestire rispetto agli altri tipologie di investimento diciamo da un certo punto di vista magari può essere anche assimilabile ai fondi ma ci sono delle differenze molto molto importanti soprattutto in ambito di costi di cui possiamo tranquillamente andare a parlare anche in questa live quindi sì, sicuramente cercheremo di fare fateci tutte le domande del caso perché vogliamo fare proprio una live molto concreta su appunto che cosa sono, come funzionano come fare poi ad usarli effettivamente diciamo dare proprio delle informazioni concrete quindi in generale possiamo innanzitutto cominciare a dire di che cosa stiamo parlando stiamo parlando comunque di un prodotto finanziario quindi si tratta sempre di qualcosa che ha come sottostante mi sentirete dire questa parola sottostante molto spesso questa sera sottostante vuol dire tu stai comprando in questo caso un ETF, un prodotto finanziario ma cosa c'è sotto, cosa stai comprando realmente quello è il sottostante e me la sentirete dire perché ci sono tante diversificazioni che andremo a vedere per capire le specificità degli ETF quindi il sottostante il materiale sotto l'azione o le obbligazioni che possono essere che compongono l'ETF perché l'ETF che cosa? non è nient'altro che un paniere un insieme di altri prodotti finanziari cosa sono questi altri prodotti finanziari? ci possono essere i prodotti finanziari le azioni le classiche azioni quindi compro azioni di Apple, Microsoft, Facebook Eni, Enel e così via solo che al posto di comprare le singole azioni quindi un'azione per volta compro direttamente un paniere già costruito che si chiama appunto ETF quindi dentro l'ETF troviamo dalle 50 alle 500 azioni quindi diverse aziende all'interno di questo paniere il vantaggio lo crea l'ETF una società delle società giusto? ci sono delle società che lo creano proprio e lo mettono a disposizione di chi vuole acquistarlo giusto? assolutamente sì le maggiori a livello mondiale sono BlackRock però quando andate a comprare l'ETF si chiamano iShare sono quelli fatti da BlackRock poi c'è ci sono altri ora ce ne sono veramente tante di società però queste BlackRock insieme a Vanguard sono quelle le principali poi ne sono nate adesso tantissime altre come Wisdom Tree e così via quindi di ETF se ne trovano migliaia davvero migliaia e anche diventa anche difficile da un certo punto di vista daremo alcune indicazioni daremo alcune indicazioni per cercare di capire come si scelgono e quindi dicevi scusa è un paniere di vari prodotti finanziari un pacchettone proprio che contiene azioni ma anche altre cose giusto? dicevi può essere fatto o di azioni o di obbligazioni e può essere sia magari su replica su degli indici o sia su replica magari su dei settori questa è la prima macro differenza fondamentale quando andiamo a sciogliere un ETF cosa vuol dire replica dell'indice? vuol dire che il sottostante di cui parlevamo sotto sono le azioni che compongono un indice sentiamo spesso a parlare al telegiornale il Fuzzi Mib Italia o l'S&P 500 americano sono degli indici cosa hanno all'interno questi indici? il Fuzzi Mib ha le 100 aziende italiane l'S&P 500 ha le 500 maggiori aziende americane il Nasdaq dalle società tecnologiche e così via quando compriamo in questo caso specifico un ETF che replica l'andamento dell'indice per esempio l'S&P 500 dentro quell'ETF troveremo molto verosimilmente le aziende che compongono l'indice stesso in modo tale che l'ETF avrà lo stesso andamento dell'indice quindi sostanzialmente contiene le azioni di queste aziende delle stesse aziende che determinano l'andamento dell'indice quindi se l'indice fa bene l'ETF fa bene giusto più o meno funziona così in realtà se il sottostante fa bene quindi se le aziende vanno bene allora ovviamente l'indice che rispecchia l'indice va bene l'ETF che replica l'indice va bene ma perché ritorno di nuovo a dire che il sottostante è quello che conta noi dobbiamo sapere cosa c'è all'interno dell'ETF che stiamo comprando solo così siamo consapevoli di quello che abbiamo acquistato questo è importante ma e quindi qual è il vantaggio che una persona ha di acquistare un ETF invece che acquistarsi singolarmente le azioni ci sono diversi vantaggi allora il primo ovviamente il fatto che acquistando un ETF rispetto alle singole azioni andando ad acquistare un paniere in questo caso di 50 100 aziende andiamo a ridurre tantissimo quella che è la volatilità intrinseca dei mercati i prodotti finanziari la cosa diciamo peggiore probabilmente lasciatemi passare questo termine rispetto per esempio a un investimento immobiliare e nell'investimento immobiliare non abbiamo nessuno che tutti i giorni ci viene a dire compro la tua casa per 98 mila euro compro la tua casa per 105 mila euro e così via non abbiamo questa pressione psicologica di conoscere il prezzo della nostra casa minuto per minuto certo e questo invece è una cosa che succede nei mercati finanziari e dal punto di vista psicologico è molto difficile da gestire perché non siamo abituati non c'è nient'altro nella nostra vita reale quotidiana che funziona così anche quando andiamo al mercato il prezzo dei mandarini dell'arange cambia di giorno in giorno ma non ci cambia di minuto in minuto cioè non c'è un'analogia e anche il prezzo dell'arange di giorno in giorno cambia ma cambia di poco non cambia del 10 o del 20% ogni giorno e poi immagino sia complesso gestirsi da solo un paniere di azioni comprate singolarmente comprandole vendendole eccetera giusto invece l'etf è più semplice immagino ad approcciarsi quello dipende da come si vuole gestire se in maniera attiva o passiva perché l'altra grande grande vantaggio dell'etf è la gestione appunto passiva cosa vuol dire passiva che noi appunto andate a comprare il paniere di azioni cosa abbiamo fatto innanzitutto abbiamo ridotto la volatilità quindi come varia come diciamo prima il prezzo di 500 aziende varia meno rispetto al prezzo della singola azienda però se tu nel tuo personale portafoglio hai già all'interno 10 20 aziende in realtà tu te lo sei autocostruito già un etf perché hai quelle diciamo 20 aziende già con 20 aziende possiamo dire che tu ti sei fatto il tuo personale etf però qual è l'altro svantaggio è che l'etf tu per esempio se stai facendo un piano di accumulo di risparmio mese per mese compri un solo prodotto che è l'etf stesso e automaticamente stai comprando contemporaneamente tutte le 20 50 100 aziende che sono nel sottostante dell'etf mentre se hai il portafoglio tu singolo di 20 aziende se dovessi fare la stessa cosa dovresti fare ogni mese 20 acquisti chiaro chiaro e diventa impossibile sia da gestire sia il livello di costi quindi ti riduce notevolmente i costi quindi mi sembra chiaro il concetto di etf qual è dopo magari parleremo dei rischi perché chiaramente è uno strumento finanziario che non è privo di rischi però parleremo appunto la live di questa sera si tratta di una live introduttiva nella quale spieghiamo questo strumento e poi dopo bisogna studiare prima di metterci soldi eccetera secondo te se una persona volesse scegliere questa strategia che credo che sia quella che interessa alla maggior parte delle persone che seguono il mio canale ma forse anche il tuo i tuoi canali volesse adottare questa strategia cioè voglio metterci dentro in un etf o in più etf un po' di soldi ogni tot e fare in modo che questo mio capitale cresca cresca e poi dopo un tot di anni io abbia una certa rendita o comunque qualcosa di integrativo o anche completamente sostitutivo al lavoro e quindi vivere libero qual è secondo te l'approccio migliore da adottare in questo caso questa è sicuramente un'opzione valida e fattibile per quanto riguarda gli etf e soprattutto per la maggior parte delle persone che ovviamente cosa succede normalmente nelle normali famiglie cioè noi abbiamo un risparmio mensile dalle 100 alle 500 ai 1000 euro al mese non lo so però tutti i mesi abbiamo un certo risparmio diciamo è meno probabile che abbiamo una somma tutte in un'unica soluzione 100.000 euro in un'unica soluzione sono tutte somme che magari vengono accumulate nel tempo e in questo caso fare un si chiamano pack i piani di accumulo quindi ogni mese andare a comprare lo stesso etf o gli stessi etf è sicuramente una delle soluzioni migliori più efficienti e soprattutto più facili da fare perché è statisticamente provato che fare un piano di accumulo ci dà tutta una serie di vantaggi ovviamente in primo luogo come diciamo prima a volte è obbligatorio perché il risparmio è mensile quindi è obbligatorio però ci dà anche il vantaggio di mediare il prezzo di ingresso cosa vuol dire mediare il prezzo di ingresso che tu comprando tutti i mesi stai comprando tutti i mesi a un prezzo diverso e quindi avrai un prezzo medio di ingresso in quell'ETF che ti aiuta sia se l'ETF cresce sia se l'ETF in quel momento sta decrescendo e ti va scusa quindi ho capito bene scegli un ETF nel quale ogni mese una parte del tuo stipendio lo vai a mettere dentro giusto? assolutamente sì assolutamente sì scusa non volevo interromperti no no prego quindi praticamente ogni mese compriamo una quota dell'ETF e possiamo accumulare il nostro capitale qui emerge una seconda differenza importantissima tra che è all'interno degli ETF perché degli ETF ci sono di due tipi quelli ad accumulazione e quelli a distribuzione perché è fondamentale in questo caso perché quelli ad accumulazione cosa vuol dire che normalmente quando compriamo un ETF dato che il sottostante sono le aziende o le obbligazioni per esempio queste danno delle cedole o dei dividendi nel caso delle azioni se questi dividendi ti vengono erogati quindi tu li percepisci come ti arriva un bonifico sul conto corrente sostanzialmente ogni 8 mesi se tu li prendi ci paghi subito le tasse il 26% sulle tue rendite finanziarie quindi sul tuo dividendo mentre se tu scegli un ETF d'accumulazione i tuoi le tue rendite quindi che siano le cedule delle obbligazioni o che siano i dividendi delle azioni vengono automaticamente reinvestiti nell'ETF e così tu non stai pagando oggi il 26% di tasse non vuol dire che non lo pagherai perché lo pagherai poi domani però questo ti aiuta tantissimo perché non pagandolo oggi quel 26% rimane lì rimane a tuo nome tuo e quel 26% genererà altri interessi e aiuta la crescita con l'interesse composto quindi quella parte di tasse in realtà ti sta facendo altro capitale perché quei soldi che tu dovresti ricevere ogni mese che magari poi è il traguardo finale quello invece in realtà vengono in automatico immagino continuamente reinvestiti nell'ETF quindi non solo ci stai mettendo ogni mese un pezzettino nel tuo stipendio ma in più quello che guadagni e quindi questo fa crescere molto tra virgolette rapidamente il tuo capitale giusto assolutamente sì ti aiuta tantissimo nella crescita e ovviamente la parte più importante nella crescita come sempre è il tempo il tempo è fondamentale nei primi anni questo effetto dell'interesse composto non lo si vide in maniera importante nei primi cinque anni già nei primi dieci comincia a diventare una cosa importante dopo i primi dieci diventa una cosa preponderante perché è una funzione si chiama esponenziale cioè che man mano che passa il tempo diventa sempre più rapida la crescita quindi questo effetto valanga dell'interesse composto diventa davvero tanto tanto importante man mano che passa il tempo e quindi diventa una parte molto importante rispetto a tutto quello che anche tu riesci a mettere da parte certo ora facciamo una piccola pausa e la profitto per dire che sono molto contento di avere domenico questa sera perché è una delle poche persone con cui riesco a parlare di questioni finanziarie e lui spiega le cose in maniera molto semplice molto terra terra non è una qualità che hanno in pochi molto spesso in questo mondo magari perché bisogna anche si usano molti tecnicismi invece domenico è molto terra terra e spiega molto facilmente le cose quindi è quello di cui secondo me le persone hanno bisogno chi è chi ha secco di tutto questo lo comprende in modo semplice e poi studierà e capirà anche le parti complesse però hai una dote non indifferente vediamo di non scadire nel banale no no anzi guarda senti allora capito per chiudere quello che dicevamo prima sul fatto dei due etf per avere poi una rendita alla fine ma dici ma allora se io durante la fase di accumulo magari è preferibile avere questi etf appunto ad accumulazione però poi alla fine il nostro obiettivo non è accumulare magari per sempre magari poi a un certo punto avere la nostra rendita quindi lì dobbiamo capire noi come bilanciare può essere fatto o che magari dopo dieci anni ho raggiunto il mio capitale totale che mi interessa e quindi a quel punto switcho passo da un etf ad accumulazione ad un etf a distribuzione quindi comincio ad avere la mia rendita o anche durante il percorso del tempo posso bilanciare le due parti e quindi man mano fare questa transizione in maniera graduale quindi cominciare per assurdo 100% ad accumulo finire 100% a distribuzione e gradatamente nel tempo fare questo passaggio e quindi magari riesco a godermi anche un po' di rendita durante questi anni se mi serve quindi a quel punto quando fai il passaggio smetti anche di mettersi dentro soldi dici ok c'è un altro mio capitale e incominci a prenderne giusto incominci ad avere possono essere entrambi nel senso dipende molto per me dagli obiettivi di vita di una persona perché dipende come al solito da quanto denaro ti serve per vivere quindi se tu magari quella diventa la tua rendita allora sì allora smetti di investirci e prendi solo i soldi che ti arrivano da quella rendita senti è complicato farlo così su due piedi un possibile un possibile percorso dire inizio con 15.000 20.000 poi so che ci verranno non so mediamente scendendo un etf che rende x è possibile che tra 20 anni avrò tot è complicato da fare a mente o si riesce a fare due conti secondo te no 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 fare due conti è assolutamente fattibile cioè è molto non dico banale però rifacendomi al tema precedente del rischio la seconda parte del rischio una è la volatilità l'altra è un parolune difficilissimo che si chiama deviazione standard che però per i comuni mortali diventa una cosa molto semplice ovvero quanto è probabile che io tra 10 anni raggiunga il mio obiettivo finale se la mia somma totale è 100 mila euro 500 mila euro quanto è probabile che io arrivi esattamente a 500 mila euro lì ogni prodotto appunto ci sono i prodotti che ti danno più probabilità di avvicinarti a quella cifra ci sono dei prodotti che ti dicono che guarda tu puoi arrivare anche a 600 come arrivare a 400 però in realtà molto spesso a noi ci facciamo illudere dal fatto di poter arrivare a 600 ma in realtà noi non abbiamo bisogno di arrivare a 600 perché a noi ci serve 500 quindi prendere un prodotto che ti dà il 90% di probabilità di arrivare a 500 molto spesso è molto più utile che prenderne uno che ti dà invece il 60% di arrivare a 600 e il 40% di arrivare a 400 questa è la base del mega parolone deviazione standard e quindi qua si unisce il fatto che non è difficile andare a farsi due conti perché con un etf è molto probabile abbassando il rischio che tu arrivi a quella cifra quindi lì siamo abbastanza tranquilli o comunque nel sempre rimanendo nell'abito della probabilità e della statistica è ragionevole pensare che si arrivi a una tale cifra seguendo un determinato percorso di accumulo e risparmio e se allora arrivato a questo punto immagino che le persone siano molto curiose di vedere dove diavolo sono questi etf come facciamo andare a vederli e per poterli scegliere giusto come se fosse un catalogo eccolo dove dice c'è questo c'è questo mi piace questo dove possiamo andare a cercare degli etf per capire un po' per cominciare a masticare con questa cosa possiamo andarle a vedere questo si lega sul fatto anche di magari crearsi poi un portafoglio o cominciare ad investire questo magari diventa una parte leggermente più difficile ma non perché è complicato di per sé ma perché come al solito bisogna essere veramente consapevoli di quello che stiamo facendo prima di cominciare ad investire quindi non non lasciamoci trascinare dal fatto che ok l'etf è più sicuro rispetto alle singole azioni o mi garantisce di più risultato e quindi vado e compro per vederli nello specifico e per andarli ad analizzare quindi perché poi fare un'analisi è importante diciamo è il passo successivo che bisogna fare per cominciare poi prima di cominciare ad investire generalmente se mi lasci mostrare intanto che cerchi ricordo le persone che sono collegate che se volete supportare queste live mie di domenico soprattutto sulla piattaforma viola innominabile potete se avete Amazon Prime potete fare l'abbonamento c'è il bottone abbonati in basso a destra e se vi abbonate voi non spendete niente perché se avete già Amazon Prime naturalmente non spendete niente però a me o a domenico in base a su quale dei due canali siete collegati arrivano questi 5 euro che poi sono 2 euro e 50 alla fine eccetera e quindi nessuno spende nulla però noi riusciamo ad andare avanti con il progetto quindi se per caso avete Amazon Prime fate cosa gradita cliccare sul tastino abbonati in basso a destra se siete sulla mia perché stiamo trasmettendo su vari social in contemporanea se siete sulla mia quindi se smettere di lavorare su piattaforma viola avete anche sotto in basso un piccolo un piccolo schemino che vi spiega come si fa a trasformare il vostro abbonamento Amazon Prime in devo dirlo Twitch Prime e poi da lì e poi da lì fare l'abbonamento ecco è molto gradito quindi se lo fate vi ringraziamo tantissimo ci aiuta ad andare avanti appunto a dare tutte queste informazioni gratuitamente che però a noi richiedono sempre molto tempo di preparazione e di studio vedo che hai aperto JustETF sì mi confermi che vedi sia noi due che il monitor ti confermo ti confermo perfetto allora qui siamo su vi sto portando su delle piattaforme che sono quelle classiche che si usano per andare a cercare a studiare i vari ETF quindi a vedere poi all'interno cosa c'è come sono composti queste ETF per andare a magari anche a cercare di selezionare quelli più adatti ai nostri obiettivi vi faccio vedere due piattaforme una si chiama appunto JustETF che per il mercato europeo è quella diciamo più utilizzata l'altra si chiama Track Insight è analoga a JustETF però questa lavora a livello mondiale quindi qua trovate anche degli ETF che JustETF invece non ve li fa vedere a livello mondo però sono assolutamente analoghe sono gratuiti entrambi i siti almeno ho visto per crearsi un piccolo portafoglio base sono gratis quindi potete farlo anche per un test iscrivervi eccetera assolutamente assolutamente sì e come vediamo qui dai siti per esempio già da JustETF questo ci aiuta molto a fare gli screening dei nostri ETF come vedete qui per esempio lui ha un totale di tutte le classi di 1031 divisi vogliamo un ETF azionario ce ne fa vedere 672 obbligazionario altri 300 metalli preziosi materie prime immobiliare ci sono ETF come diciamo prima sia sugli indici e sui diversi sottostanti azioni obbligazioni ma anche in diversi settori possiamo anche andare a per esempio qui nel video 1 Easy Energy e Metals questo probabilmente sarà su tutto il settore energetico e sui materiali o per esempio abbiamo gli ETF su tutte le aziende farmaceutiche o le aziende automotive quindi ci sono diverse tipologie di ETF che appunto qua possiamo andare tranquillamente a filtrare per esempio anche qui ci danno tutti altri filtri da poter selezionare come età dimensioni del fondo metodo di replica questi magari li possiamo anche andare a discutere un attimino aprendo un singolo ETF si lo dico anticipo solo una cosa perché naturalmente state vedendo una marea di ETF e quindi qua la difficoltà ovviamente nella quale si incorre adesso è quella di scegliere come facciamo in questo mare poi a orientarci dopo ne parliamo quindi intanto facciamo una piccola panoramica poi per chi è impaziente te lo dico subito dopo ne parliamo comunque è vero orientarsi perché di ETF ce ne sono veramente milioni diventa assolutamente difficile quindi qua ci sono diciamo le caratteristiche che compongono diciamo che sono le qualitative delle ETF che molto spesso sono quelle che noi andiamo a filtrare per cercare l'ETF giusto per noi un esempio ok prendiamo per esempio l'età è un ETF giovane quindi che ha un anno di vita ovviamente è un ETF del quale abbiamo poco storico sul quale valutarlo sia come risultati come performance come aderenza all'indice che vuole replicare per esempio se io voglio replicare l'S&P 500 e questo ETF ha solo un anno di vita non sono sicuro che quell'ETF riuscirà esattamente a replicare l'S&P 500 perché ho poco storico un ETF che ha 5 anni di vita riesco a vedere negli ultimi 5 anni se è riuscito a replicare bene quell'indice oppure no quindi già l'età può essere uno di quei fattori che posso usare per andare a fare i miei filtri nella scelta dell'ETF ancora per esempio le dimensioni del fondo superiore a 100 milioni superiore a 500 milioni cosa vuol dire le dimensioni di un fondo ovviamente quanto più è grande l'ETF qui ci dà due parametri 100 milioni e 500 milioni su il totale del capitale gestito dall'ETF cioè il totale di tutti gli investitori ci hanno messo dentro quell'ETF 100 milioni 500 milioni se l'ETF più è grande l'ETF generalmente ci dà due vantaggi la grandezza di un ETF il fatto che ci siano più scambi normalmente per un ETF più grande però c'è anche un filtro che va a guardare anche solo gli scambi quindi questo cosa vuol dire che quando noi decidiamo di andare a vendere quell'ETF avremo chi ce lo compra quindi molto spesso ci si va a buttare su degli ETF molto piccoli molto di nicchia perché voglio l'ETF sul biotecnologie robotiche benissimo lo troverai perché sicuramente esisterà però magari è scambiato 10 volte al giorno 100 volte al giorno cioè non c'era nessuno diciamo sono in pucchi che magari vanno a prendere quella nicchia di mercato e questo ti può dare delle problematiche sia nel momento in cui lo vai a vendere magari riesci a venderlo ma con degli spread più alti cosa è uno spread quando lo vendi la differenza tra il prezzo a cui lo vuoi vendere e il prezzo a cui lo vogliono comprare più è grande questa differenza e più è grande diciamo lo spread si chiama e questo cosa vuol dire che tu magari se lo vuoi vendere sei costretto ad abbassare il prezzo di tanto perché ci sono pochi che lo vogliono comprare come una casa quindi se tu la compri la casa in periferia sai già che il mercato è minore quindi ci sarà una maggiore differenza tra la tua richiesta nella vendita e chi invece la vuole venire a comprare che darà un prezzo più basso se vai in centro c'hai più mercato e quindi ci sarà minore differenza e più facile trovare degli acquirenti la stessa cosa vale per la grandezza dei fondi questo si rispecchia anche nel costo del fondo perché normalmente un fondo che gestisce più soldi riesce ad avere anche delle commissioni più basse ecco questa è una parte interessante perché essendo un prodotto l'etf creato e gestito da delle società naturalmente queste società non lo fanno gratis una piccola percentuale una piccola quantità di denaro la vogliono qui se non erro su just etf ma anche su quest'altro si può sapere qual è il costo di gestione del fondo assolutamente sì ce l'abbiamo ora indicatore di spesa qui è tracking site è assolutamente analogo a just etf ovviamente quando possiamo vederlo anche qui allora se ne apriamo uno qualsiasi ok ne abbiamo aperto uno ok ci dà il suo prezzo attuale e qua ci danno tutte le la scheda con tutte le informazioni quindi in questo caso abbiamo questa è la dimensione del fondo 170 milioni qua poi just etf ti dà anche una scala di colori per andare a valutare se appunto verde giallo e rossa quello che dicevamo prima quindi praticamente se è più o meno al rischio come fondo la replica questo non ne abbiamo parlato però è un altro aspetto importante replica fisica replica sintetica lo accenno perché è importante replica fisica vuol dire che il sottostante di cui parlavamo prima è l'azione reale cioè l'etf va a comprare le azioni va a comprare le obbligazioni e quindi ovviamente sei proprietario della tua quota di azioni e obbligazioni replica sintetica invece vai a comprarti un contratto quindi il tuo sottostante non saranno più le azioni non saranno più le obbligazioni ma un contratto con una terza parte che può essere una banca o un ente finanziario la quale ti dice ah guarda domenico non ti preoccupare io ti garantisco un ritorno uguale all'indice ma me lo sta garantendo la banca e la banca userà i miei soldi per fare altri investimenti ok e poi mi darà i miei soldi ma non sta usando i soldi per comprare il sottostante del mio etf certo non so se non è chiaro lo cerco c'è un livello in più in mezzo e quindi un attore in più che si chiama rischio della controparte perché il mio investimento non me lo sta garantendo più un sottostante reale ma me lo sta garantendo un altro ente se quell'altro ente fallisce ovviamente ho il rischio che quell'altro ente non riesca a fare quello che ha promesso di fare costi lo vediamo qua bello in grande 0,49% anno in questo caso questo è sulla plusvalenza o sul denaro che depositi no questo è su tutto è sul tuo totale che hai ok quindi comunque sono costi molto bassi sono i più bassi costi che possiamo avere a meno che noi non andiamo a comprare direttamente le azioni dove ovviamente abbiamo costo 0 però sono leggevo prima un commento che ci diceva la differenza tra fondi ed etf le differenze sono due una è la gestione attiva e passiva l'altra è i propri costi la gestione attiva dei fondi ti danno dei costi normalmente tra il 2 e il 3% con gli etf abbiamo in questo caso 0,5 0,49 perché è un etf sintetico quelli sintetici hanno dei costi un po' più alti perché sotto come abbiamo detto ci sono questi contratti che bisogna rinnovare mentre quella replica fisica o etf più grandi possiamo arrivare anche a dei costi dello 0,2% quindi capite bene che pagare il 2% o pagare lo 0,2% è 10 volte in meno il costo è certo e ricordiamoci che la gestione attiva è quella che di solito dei fondi è quella che di solito ti propongono in banca e dici voglio investire di solito le banca ti propongono sempre quella che però se non erro ha dimostrato di non essere un granché come rendimenti non c'è nel senso la banca ti propone il fondo piuttosto che l'etf per una semplice ragione perché l'etf avendo i costi così bassi perché ha i costi così bassi l'etf perché non ha i costi di gestione della gestione attiva e non ha i costi di commissione che deve pagare alla banca o a qualsiasi altro intermediario che ti piazza o ti vende il prodotto al consumatore finale l'etf lo vediamo tra un attimo tu te lo vai a comprare da solo in autonomia te lo compri adesso vediamo dove si comprano sì mentre il fondo te lo vende un intermediario che ovviamente deve guadagnarci per questo i costi sono più alti dei fondi perché ovviamente c'è il costo dell'intermediario e il costo della gestione attiva qua che la gestione attiva sia meglio o peggio della gestione passiva si apre un dibattito generalmente la gestione passiva è migliore della gestione nel maggior maggior parte dei casi della gestione attiva ci sono dei fondi che sovraperformano sicuramente quindi dei fondi di gestione attiva che vanno meglio puoi capire se riescono a farlo per un lungo periodo di tempo oppure no è tutto un altro discorso però qui mi leggo al discorso precedente va bene anche se questo fondo riesce a fare meglio ma a me serve veramente fare meglio o mi basta il 4% il 5% che mi dà il mio ETF o devo per forza cercare l'8% lì sta la scelta nostra sostanzialmente certo e allora c'è Francesco Russo che domanda se i guadagni da ETF fanno reddito ma la sposta è sì ne parliamo però poi alla fine sui costi le trassazioni facciamo un riepilogo finale così li teniamo incollati anche fino alla fine senti quindi abbiamo visto che qua questo sito è assolutamente questo e anche l'altro sono proprio il punto di partenza per incominciare ad orientarsi un po' giusto? e qui c'hai tutte le tutte le informazioni le schede del prodotto c'hai veramente volevo mostrarvi la scheda mentre la cerchi dico una cosa e questo soprattutto Giastetf ha tutta una sezione gratuita che si chiama Accademia dove potete andare a studiare e leggervi bene cosa sono gli ETF come funzionano ci sono tipo 10 suggerimenti per scegliere bene l'ETF giusto quello che fa il caso vostro quindi come al solito in questo mondo bisogna molto studiare e molto informarsi prima di iniziare a metterci i soldini e secondo me Giastetf ha anche tante informazioni utili poi il canale di domenico è per carità ne parla sempre il KID il KID è la scheda appunto informativa principale per quanto riguarda gli strumenti finanziari nel KID trovate scritto tutto praticamente tutte le informazioni che vi servono vi serve sapere i costi e tutto quanto i rischi del singolo ETF se lo apriamo al vulo eccolo qua questo per esempio ci dà la scala da 1 a 7 che è quella universale che appunto viene da definire i rischi questo da una scala da 1 a 7 ha un rischio 5 e qua all'interno trovate praticamente tutto i costi tutto quanto lo storico quindi nel KID non vi spaventate perché sono solo due paginette solitamente però sono due paginette riassuntive che vi fanno vedere tutto io volevo farvi un'ultima parentesi perché mi piace tanto anche quest'altro sito si chiama Trek Insight perché è molto facile qua andare a vedere quando scegliamo un ETF qualsiasi qua in questo caso sto sullo su un ETF proprio dell'S&P 500 e alla fine sotto praticamente ti dà questi grafici che sono molto molto belli indicativi che ci danno sia la differenza per paesi per valuta e per settori e poi le aziende che ci sono dentro quindi se io compro queste ETF sto investendo il 98% in America negli Stati Uniti sto investendo al 97% in dollari è 0,43 in euro quindi il mio sottostante è dollaro i settori abbiamo il 31% dell'information technology il 15% dell'health care quindi la sanità no la sanità farmaceutiche 13% consumer discretionary 10% finanza e così via quindi ci dà la differenza dei presettori e poi ci dà anche azienda per azienda quanta percentuale dell'ETF è in ogni singola azienda c'è un ignorante come me in materia ovviamente pensa guardando questo di pensa ok se io credo nel mercato americano credo che andrà bene soprattutto l'information technology e la farmaceutica probabilmente credo questo questo ETF penso che andrà bene giusto questo è un po' il concetto giusto sì sì ma serve appunto per capire se tu vuoi investire in questo caso un ETF che replica l'SMP500 ma in generale se a te interessano questi settori quindi l'information technology l'health care e così via in queste percentuali con queste aziende all'interno perché qui abbiamo Microsoft Apple Amazon Facebook questo è Google Alphabet è Google Johnson & Johnson nella farmaceutica e così via con queste percentuali allora hai trovato l'ETF giusto ve lo sto facendo vedere perché mi è capitato soprattutto per quanto riguarda degli ETF ma capita per tutti che magari dentro l'ETF quando andate a vedere le posizioni qua delle singole aziende magari trovate la prima azienda al 20% seconda azienda al 20% quindi capite bene che con due aziende avete fatto il 40% dell'ETF e quindi quell'ETF sarà molto sbilanciato solo su due aziende quindi più rischioso di uno invece che ha molte più aziende nel paniere giusto? se noi stiamo comprando l'ETF perché volevamo diversificare su più aziende non abbiamo fatto la scelta giusta se invece il nostro obiettivo irà proprio andare a investire su quelle due aziende più una diversificazione allora diventa la scelta giusta quindi come al solito dipende dagli obiettivi che abbiamo però è importante essere consapevoli e andarsi a vedere queste cose per capire se il prodotto che stiamo scegliendo è coerente con i nostri obiettivi senti mi sembra già veramente orientativamente molto interessante perché una persona dice ok adesso io finalmente che non spugnante di questo strumento so dove andare a vedere le cose quindi so dove incominciare a dare un'occhiata e incominciare a interessarmi e seguire gratuitamente lo ricordo e ci si può anche creare un portafoglio che però è solo virtuale in quel caso giusto perché su quei siti non investi veramente i soldi crei solo un portafoglio che ti aiuta a seguire l'andamento e capire come vanno le cose ma non ci stai mettendo un centesimo lì dentro allora si può fare un piccolo vademecum di quali sono le cose da guardare per poter scegliere un etf nel caso in cui una persona volesse fare magari soprattutto un piano abbastanza prudenziale di accumulo per poi avere una rendita tra un po' di anni c'è un c'è qualche consiglio? Allora lì ci sono un po' i fattori sono diversi e un po' sono quelli che abbiamo visto prima magari li li possiamo anche rivedere un attimo se vuoi sono diversi fattori io se mi permetti magari vi rimando anche sul canale vivere di dividendi assolutamente sul mio canale c'è una playlist etf ed etc gli etc sono come gli etf ma sulle materie prime dove appunto spiego tutte le varie caratteristiche degli etf e così via e ce n'è una dove proprio dico quali sono gli otto punti almeno essenziali da andare a vedere per scegliere l'etf giusto quello che mi vorrei dire adesso è che non dobbiamo scegliere l'etf in base a per esempio l'etf che mi costa di meno vedo due etf sull'S&P 500 uno ha un costo quali vediamo qui praticamente informazioni chiave sono uguali su tutti e due gsdf e questo abbiamo per esempio indicatori di spisa questo addirittura è 009 se un etf è 009 l'altro è 020 quindi è un altro magari costa di più non dobbiamo focalizzarci per esempio sul costo minore perché per esempio il nostro obiettivo finale non è risparmiare il nostro obiettivo è comprare il prodotto finanziario giusto per noi esempio molto pratico se l'altro è vero che costa di più ma ha una una divisione settoriale più adatta ai nostri obiettivi una divisione sulle aziende più adatta ai nostri obiettivi sarà meglio l'altro è inutile che vada a comprare qualcosa che mi costa poco però non è quello che mi serve certo quindi in via generale possiamo dare come elementi chiave da andare a vedere sicuramente la grandezza del fondo come abbiamo detto prima le spese sono un'altra cosa appunto da tenere in considerazione ma non devono essere il fattore di scelta possiamo andare a vedere l'età del fondo quindi da quanto tempo questo fondo è attivo e questo ci permette anche di andare a vedere se è replicato bene o male l'indice la replica fisico sintetica io consiglio soprattutto se si dà le prime armi sicuramente una replica fisica rispetto a quella sintetica perché quella sintetica sicuramente costa di più e ci espone a dei rischi che normalmente non sono necessari per noi quindi replica fisica sicuramente è molto molto importante un altro modello replica totale o parziale questo diciamo è un po' più di fino ma non è uno dei fattori principali quello che invece a me prime sottolineare è appunto il fatto di andare a controllare dentro l'etf se ci sono le aziende che volite o le obbligazioni che volite e che la percentuale sia quella che desiderate sia come settori sia come singole aziende in modo tale che qua stiamo noi comprando il prodotto giusto quindi il prodotto che ha le aziende che vogliamo noi i settori che vogliamo noi le valute che vogliamo noi quindi se ho capito bene l'approccio migliore di partenza proprio è quello di dire io ho un obiettivo molto chiaro nella mia vita che è quello di arrivare tra 25 anni non lo so ad avere x rendita sceglierò l'etf che in qualche modo mi permette di raggiungere questo obiettivo e quindi non è che navigo a vista tra tutti gli etf e poi scelgo così a casaccio scelgo quello che ne scelgo magari ne seleziono 20-30 quelli che sono che mi permettono di arrivare ad avere questo mio traguardo e tra questi poi con questi parametri che hai dato cerco un attimo di affinare il tiro e dire ok questo mi sembra un po' più sicuro quell'altro siccome è sul mercato americano credo che l'americano andrà bene faccio gli aggiornamenti macro in questo momento anche un po' banali oppure penso che il settore informatico andrà bene quindi mi baso magari e faccio gli aggiornamenti di questo tipo è un po' questo l'approccio ho detto corretto? assolutamente sì sul numero di etf da mettere in portafoglio lì cioè non io sono almeno dell'idea che è inutile mettere all'interno di un portafoglio 20 etf non ha non ha assolutamente senso perché cioè non è che più diversifichiamo è sempre meglio cioè più diversifichiamo la diversificazione di per sé è un'assicurazione quindi come tutte le assicurazioni tu la paghi chiaro questo è ovvio quindi nel caso della diversificazione tu la paghi in termini di rendimento quindi più diversifichi hai una maggiore sicurezza perché ti stai comprando l'assicurazione però avrai un rendimento un pochettino più basso cosa succede? che quando abbiamo un all'interno del nostro portafoglio statisticamente parlando quando siamo arrivati a comprare 20 aziende 50 aziende già abbiamo creato un paniere assolutamente diversificato che ci garantisce che quella deviazione standard di cui dicevamo prima è andata a sottigliare quindi ci dà una probabilità di raggiungere quel risultato molto buona e ci dà una volatilità già abbastanza accettabile in via macro poi ognuno ha i suoi parametri questo ovviamente ognuno deve vederli quindi anche là fare un un paniere già di 3 etf 4 etf sarebbe già più che sufficiente esistono anche gli etf di etf qualcuno l'aveva scritto in chat prima sì quindi praticamente un etf che ha al suo interno altri 20 etf quindi se volete comprare un solo prodotto finanziario e con quello coprire tutto si compra un etf di etf e lì ne comprate solo uno accumulate solo su uno e avete risolto tutti i prossimi problemi la cosa più facile avrà costi dei costi ovviamente etf avrà i costi dei costi giusto no ma neanche tanto però lo paghi ovviamente che se tu stai diversificando su tutto è come se vai alla roulette e compri tutti i numeri vinci sicuro ma quanto hai dovuto investire sposi un po' quello che scrive Nikesao in chat che dice bastano due etf lui dice un azionario globale e uno obbligazionario globale come ti sembra come approccio sì sì per esempio facciamo un esempio proprio molto tipico e molto classico o le etf scusami o il portafoglio prendete punti qua che adesso arriva il consiglio giusto attenzione il famoso portafoglio 60% azionario 40% obbligazionario o il portafoglio che magari ha 50 30 20 con il 20% di euro tu te lo costruisci semplicemente con 2 barra 3 prodotti finanziari quindi l'etf dell'azionario l'etf dell'obbligazionario l'etf sull'uro con 3 prodotti finanziari hai costruito il tuo portafoglio te sono bastati 3 hai fatto tutto certo questi sono consigli interessanti una persona dice ok adesso ho una linea guida sulla quale incominciare a ragionare pratica perché tante volte è complesso è un mondo complesso e magari avere già 2-3 dritte così su cui incominciare a ragionare è difficile orientarsi perché veramente quando si va a scegliere l'etf ne trovi di milioni veramente quindi là devi avere un minimo le idee chiare la consapevolezza di quello che vuoi comprare per cercare di scremare e poi scegliere quei 5-3-2 quelli che sono che veramente sono quelli giusti per i tuoi obiettivi non sono quelli che avranno il rendimento migliore degli altri quelli non li beccherai mai e non ti servono tra l'altro a te ti servono quelli che avranno il rendimento giusto per te certo questa è una filosofia che sposo al massimo tra l'altro e allora senti adesso una persona però ha detto ok adesso voglio andare a comprarmi questi etf io ho studiato ho deciso quali sono i miei i miei 1-2 etf interessanti dove vado a comprarli? a comprarli è abbastanza anche semplice se vogliamo perché lo si deve fare in autonomia perché se vado in banca e chiedo allo sportellista della banca mi dirà che non va bene investire in etf quindi lo dovete fare in autonomia ci sono diverse possibilità ovviamente tutte le banche o la maggior parte delle banche vi danno la possibilità di accedere ad un portafoglio titoli o quello che cambia tra farlo con la propria banca quella che abbiamo da sempre su quale abbiamo il nostro conto e invece andarsi a scegliere o un'altra banca o un broker che non è una banca ma è un intermediario finanziario che ti permette di acquistare dei tf tutto sta nei costi anche in questo caso perché magari la banca ti applica generalmente tendenzialmente dei costi più alti rispetto ai broker non è sempre vero ma nella maggior parte dei casi se lo fate con la banca che avete da 20 anni molto probabilmente avrete dei costi alti perché non avete mai affinato questa parte dei costi quindi è giusto andarci a ragionare con la banca lo potresti fare anche online giusto immagino che chi ha l'inbanking o loan banking come si chiama potrebbe farselo online l'acquisto non immagino tutti assolutamente online io personalmente diciamo avevo per esempio non ve lo consiglio affatto quindi ve lo sto dicendo solo come esempio ma non fatelo perché assolutamente non ne vale la pena avevo un vecchissimo conto di ING Direct aperto 15 anni fa 10 anni fa non lo so che è stato il mio primo conto con il quale ho aperto il portafoglio azionario che ho ancora tutt'oggi però ha delle commissioni altissime perché mi fa pagare 8 euro ogni volta che faccio un acquisto poi sono passato a Finico perché Finico dà tantissimi servizi è uno dei migliori però anche lì Finico ha dei costi un po' alti soprattutto per l'Italia io ho aperto Finico quando stavo in Inghilterra quindi Finico che aveva dei costi più bassi più accettabili se per il mercato italiano sicuramente mi sento di consigliare lungo andatevi a vedere trovate anche i link in descrizione ai miei video De Giro ha delle commissioni molto molto basse mi sono fermato perché mi è venuta in mente una cosa che ve la devo assolutamente dire perché è importante finisco questo De Giro ha delle commissioni bassissime e ha a disposizione 200 etf gratis che voi comprate senza commissioni però anche lì non è che andate a comprare gli etf gratis perché sono gratis non fate questa scelta comprate quelli giusti per voi dovete comprare quelli giusti se poi avete la fortuna che quello giusto per voi sta dentro quei 200 avete fatto bingo perché neanche lo pagate quindi De Giro assolutamente ha delle commissioni bassissime potete andarlo a vedere i turo per chi vuole degli prodotti sul mercato americano che è il mercato se vogliamo anche migliore o comunque quello che ha più capitali i turo dà la possibilità di accedere a degli etf che normalmente sul mercato europeo non possiamo comprare perché sono devi essere un professionista del settore e non non li puoi comprare neanche con finico io li posso comprare e quindi ho i turo proprio perché mi dà la possibilità di accedere a degli etf del mercato americano che poi sono quelli più grandi e più capitalizzati che invece non avrei con i broker italiani per esempio questo è uno dei vantaggi che hai i turo e i turo ha anche il vantaggio che ti fa comprare delle frazioni per esempio se sull'etf magari capita un po' meno però se l'etf per esempio costa ogni quota dell'etf che costa 200 dollari ma io ne voglio ne risparmio solo 50 ogni mese con i turo compro la frazione compro 50 non devo comprare per forza 200 mentre con tutti quelli italiani bar europei devi comprare per forza 200 non puoi comprare 50 quindi i turo dà questa possibilità trovate il link di affiliazione sotto i video se siete interessati a andarli a vedere un altro italiano che ha dei costi bassi e diretta che anche qui non è una banca ma è un intermediario finanziario quello che mi era venuto in mente di dirvi prima è che una delle differenze importanti da considerare quando scegliamo se farlo con la banca o farlo con un broker è che non tutti sono sostituto di imposta che non è di per sé un male sostituto di imposta vuol dire che le tasse le paga direttamente della banca al posto nostro quindi noi non dobbiamo fare niente mentre quando non è sostituto di imposta dobbiamo portare il foglio che ci dà alla fine dell'anno il broker ti dà un foglio con tutte le tue transazioni lo devi portare al tuo commercialista che lo inserisce dentro il 730 ci sono vantaggi e svantaggi non è sempre meglio avere un sostituto di imposta perché è vero che tra virgolette risparmi il commercialista per quello che ti può costare e così via se già uno non lo usa per altre sue necessità i vantaggi e svantaggi solitamente che se non è sostituto di imposta tu puoi andarti a compensare le minusvalenze e le plusvalenze che cosa vuol dire che se hai dei titoli sugli etf non vale ma se hai dei titoli in perdita e hai dei titoli in acquisto vendendoli alla fine dell'anno vai a compensarli e questo ti evita di pagare le tasse su quelli in profitto perché invece se lo fa la banca la banca su quelli in profitto ti fa pagare le tasse e le paghi subito le paghi nel momento in cui realizzi quindi nel momento in cui vendi paghi le tasse mentre con sostituto di imposta le tasse le paghi a maggio dell'anno dopo quando fai la dichiarazione e non ti va a fare queste compensazioni se non poi le posizioni in perdita te le compensa con altre posizioni dopo più in là nel tempo quindi diventa più macchinoso e non sempre lo riesci a fare tra diverse banche quindi ci sono vantaggi e svantaggi anche qui è una cosa da considerare però è giusto saperla prima di scegliere se usare una banca o un broker controllate anche questa cosa ok quindi diciamo per ricapitolare o si va in banca si spende un po' di più o si va direttamente da un broker tu hai nominato DeGiro Itoro ci sono anche magari ma ci sono anche delle banche online economiche tipo WeDiba ce ne sono ce ne sono un po' quindi se cercate un pochettino bisogna la cooperazione dei costi chiaro di orientarsi anche lì e va bene allora tassazione abbiamo detto appunto sulle plusvalenze cioè su quello che si guadagna nel caso al 26% ricordiamo per esempio i titoli di Stato sono al 12 e mezzo insomma però su quello che guadagnate dovete considerare che il 26% lo Stato se lo tiene cioè i soldi vanno dichiarati perché non ci si scappa tra l'altro per lì accreditano sul conto corrente quindi non ci si scappa proprio ridevo scusami non per quello che dicevi ma perché anche qui torniamo sul fatto è vero che i titoli di Stato hanno una tassazione al 12 ma quanto ti rendono i titoli di Stato? niente non sono più niente ma infatti guarda questa live questa sera la volevo fare con te perché chi come me viene dagli anni 80 che era abituato e ha investito perché negli anni in cui io risparmiavo io investivo in gettoli di Stato obbligazioni bancarie anche al tempo i titoli di Stato avevano dei rendimenti interessanti non erano malvagi e adesso questa cosa questa storia è finita completamente cioè non rendono neanche i nuovi titoli che hanno messo i BTP Futura e quelle altre cose non rendono niente di niente e quindi è interessante scoprire uno strumento alternativo come quello degli ETF che magari è naturalmente un po' più rischioso adesso parleremo dei rischi questo è interessante così poi concludiamo tutta la nostra chiacchierata e passiamo a un po' di domande e dicevo un po' più rischioso però in questo momento bisogna cercare un'alternativa perché i titoli di Stato non sono più una cosa valida e quindi uno dice va bene però cosa c'è sul mercato? ci sono gli ETF eh sì ma cosa sono gli ETF non lo so una bella live di un'ora in cui abbiamo spiegato bene come cosa sono come funzionano dove si compro dove si guardano insomma ci vuole un po' di chiarezza secondo me parliamo un po' dei rischi che rischi si corrono ecco li abbiamo un po' accennati però partiamo dal fatto che stiamo comunque investendo nel mercato finanziario il mercato finanziario ora mi prenderò 10.000 critiche nei commenti non è assolutamente più rischioso per esempio del mercato immobiliare semplicemente non ce ne accorgiamo ma non ce ne accorgiamo per esempio che facevo all'inizio perché sul mercato immobiliare non c'è nessuno che ci viene a dire ogni minuto guarda compro la tua casa vale un mille euro in più e un mille euro in meno non ce lo vengono a dire noi ci poniamo il problema nel momento in cui dobbiamo venderla e là ci rendiamo conto oh ma non c'è nessuno che la vuole comprare come mai? tra l'altro nel mercato immobiliare ricordo che ci vogliono dai 6-12 mesi per vendere una casa e poi c'è tutta la questione che se la metti in affitto se non pagano sono guai grossi quindi anche lì magari ci facciamo una live una volta e ci sono una serie di dritte che ti aiutano a fare le cose per bene scusa non volevo interromperti quindi non c'è come in tutte le cose del mondo non c'è un bene o un male ma ogni prodotto finanziario ha le sue caratteristiche e l'altra cosa importante è che noi normalmente non guardiamo all'investimento finanziario con la stessa ottica con cui guardiamo all'investimento immobiliare che vuol dire che quando ci approcciamo all'investimento immobiliare ci approcciamo con la mentalità che compro la casa e magari la darò ai miei figli o comunque la tengo per 20 anni 30 anni quando ci approcciamo all'investimento immobiliare invece ci approcciamo nel dire compro una cosa oggi e domani la voglio vendere al doppio del prezzo o tra un mese la voglio vendere al doppio del prezzo ma non è così cioè se ci approcciassimo al mercato finanziario con la stessa ottica con la quale facciamo il mercato immobiliare avremmo dei risultati generalmente migliori di quelli del mercato immobiliare per il semplice fatto che comunque il mercato finanziario ha un sottostante che cresce più rapidamente rispetto a quello del mercato immobiliare invece di contro abbiamo il fatto che appunto c'è tutta questa gestione psicologica della volatilità dei mercati dell'andarsi a vedere questo prezzo che sale e scende ogni giorno ogni giorno uno è ossessionato chiaramente uno è ossessionato a guardare ogni 5 minuti e a preoccuparsi oppure sei bombardato dalle notizie ai mercati stanno crollando che succede di qua e di là quindi c'è una gestione psicologica che se uno non è pronto non è preparato ti devasta e ti fa perdere soldi e basta e i rischi sono quelli ovviamente di qualsiasi investimento cioè nel senso che tutte le volte che vi viene dato un rendimento questo vale per il peer to peer lending vale per il bitcoin vale per il mercato immobiliare per l'obbligazionario per tutto ogni volta che vi dicono il rendimento è il 5% il 6% il 7% state sicuri che a un rendimento più alto corrisponde un rischio più alto perché nessuno ci regala niente quindi che quando vi vengono a dire il peer to peer lending è più sicuro del mercato azionario e ti dà l'8% al posto del 5% del mercato azionario non è vero perché non ti darebbe l'8% se fosse più sicuro se il bitcoin triplicherà nei prossimi tre anni e quindi farà il 300% quant'è non è più sicuro del mercato azionario che invece fa il 5% all'anno quindi è più rischioso bitcoin è un mercato tra l'altro imprevedibile con volumi bassissimi dove una balena fa il bello e il cattivo tempo da un giorno all'altro quindi lì lì io mi sento di dire insomma se mettete i soldi lì in bitcoin sono considerati buttati andrà come andrà per quello che penso io su quel mondo lì e ne ho e ne ho bitcoin c'è chi crede c'è chi no però come al solito quando avete un rendimento non esiste che vi danno un rendimento più alto con un rischio più basso quindi là c'è sempre poi come lo valutiamo in maniera pratica il rischio che tutti parlano di rischio ma cosa è poi alla fine il rischio potete valutarlo o con il foglio che abbiamo visto prima sul kid c'è la scala del grado di rischio quello vi dà già un'indicazione da 1 a 7 sapete che scala di rischio quale punto della scala di rischio state comprando non ve lo posso spiegare adesso ma vi rimando eventualmente a un mio video per chi lo vuole vedere c'è una playlist sulla gestione dei portafogli dove faccio vedere in maniera pratica c'è un sito dove tu vai a mettere tutti i tuoi prodotti finanziari con i quali vuoi creare il tuo portafoglio e questo sito ti dà sia la varia la deviazione standard di che parlavamo prima quindi la variabilità sul risultato finale sia il massimo si chiama drawdown la perdita massima che tu puoi avere e questi sono due fattori essenziali quando si va a mettere in pratica il rischio il rischio lo mettiamo in pratica con questi due fattori quindi la capacità di darmi alla fine il risultato atteso e la perdita massima che io posso avere con quell'investimento e con questo sito mettendo i prodotti finanziari che tu vai a selezionare che siano etf che siano azioni quello che volete il sito vi dice ok se fai un portafoglio così la tua deviazione quindi la tua probabilità di raggiungere il risultato è del 90% la tua massima perdita è del 30% come si chiama il sito te lo ricordi non te lo ricordi non te lo ricordi no giusto per dirlo no giusto per dirlo intanto che magari se lo cerchi al volo vai vai inventati qualcosa da dire prendo le palline quelle delle giocogliere no ricordo no ricordo alle persone che se avete Amazon Prime potete aiutare sia me che Domenico abbonandovi non vi costa niente c'è il tastino abbonati in basso a destra viola e ci arrivano un po' di soldi voi però non spendete nulla noi ci arrivano un paio di euro due euro e mezzo e ci aiutano ad andare avanti quindi se avete Amazon Prime e solo se fate questa questa buona buona pratica che ci aiuta tanto ad andare avanti invitiamoli a iscriversi anche sul canale Vivere di Dividendi ma assolutamente ma in particolare fate un po' di felicità dai lo faccio io così tanto che tu cerchi volete sapere che Domenico ha un canale YouTube perché su Twitch credo che ah ho detto la parola magica vabbè ormai è frittata fatta appena iniziato immagino qua sulla piattaforma viola quindi più che altro immagino ti interessa avere iscritti su YouTube su YouTube cercate vivere di dividendi trovate il canale di Domenico ci sono un sacco di informazioni soprattutto sulla questione degli ETF ma anche su altri prodotti finanziari molto bravo a spiegare è molto competente è un investitore quindi non parla di aria fritta ma di ciò che fa e di ciò che ha fatto e quindi questo è molto importante in questo panorama e cos'altro mi invento deve prendere tempo ci sto mettendo troppo no no va bene guarda qualcuno ha scritto qualcuno aveva incollato aveva incollato un url portfoglio l'ho trovato l'ho trovato è giusto? qualcuno l'ha fatto prima di me veramente mi sentirò incolto a tutta la vita perché non sono capito è il bello della community no? è il bello della community ecco dovrebbe partire dovrebbe arrivare adesso nei commenti ah si è arrivato è arrivato è arrivato il tuo video di YouTube ve lo spieghi quindi benissimo poi chi vuole credo che il sito sia portfolio charts dot com ecco ecco c'è il video di domenico dove racconta come funziona questo sito così imparate anche ad utilizzarlo molto utile va bene senti che dire ci siamo scusati qualcosa o passiamo un po' di domande diciamo che ho visto che stanno facendo un sacco di domande quindi magari possiamo dare un po' dai allora tanto cerco qualcuno anch'io il primo che ne trovo una interessante la spara a video va bene fateci sapere se è stato interessante anche per voi se vi è piaciuto Giovanni dice domenico ti seguo sempre uno scritto etf aristocratici io non la capisco va beh cerca un'altra domanda rispondo su questa praticamente con le dividend aristocratici cosa sono questo è importante per chi vuole crearsi una rendita finanziaria quindi con un etf che gli dia gli garantisca una rendita le aziende le aristocrat aristocrats sono delle aziende che negli ultimi 25 anni hanno dato dividendo ed è questo dividendo è sempre in aumento quindi sono quelle che diciamo tra virgolette hanno maggiore garanzia di continuare a dare dividendo anche nel futuro almeno hanno uno storico molto importante ci sono addirittura le king che hanno uno storico di 50 anni di dividendi erogati e sempre in crescita come per esempio 3M che è una delle classiche aziende dividendo aristocrats quindi andare a prendere un etf che è all'interno le dividendo aristocrats stiamo comprando un etf che molto probabilmente come conto capitale quindi somma totale del nostro portafoglio non crescerà molto però ci garantirà una rendita quindi avrà un alto rendimento e questo rendimento sarà abbastanza stabile nel tempo questa è un'altra cosa che possiamo sottolineare nel senso che è tra virgolette ovvio che un'azienda immaginate che sia la vostra azienda per darvi un un dividendo sta prendendo soldi dagli utili generati dall'azienda stessa quindi è ovvio che se questi soldi li dà a voi non avrà i soldi per far crescere il proprio business quindi è una una bilancia più soldi ci danno meno soldi avranno per aumentare il business aumentare il business vuol dire che noi vediamo il prezzo delle azioni che cresce mentre il fatto che ci danno i soldi abbiamo i nostri dividendi che crescono le dividend aristocrat normalmente hanno dei dividendi già alti che continuano a crescere ci danno tanto 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 rendimento in dividendi ed è ovvio che non ci potremo aspettare che l'azienda cresca tanto sono delle aziende molto mature normalmente come business e come tutto quindi anche qui sono degli ETF che magari vanno molto bene per chi vuole una rendita chiaro è chiarissimo senti Francesco Rossi domanda se una persona ha una reversibilità quindi immagino di una pensione di una invalidità e non deve superare il trattamento minimo tre volte per non diminuirla quant'altro ETF viene diminuita immagino di sì l'ETF va in dichiarazione di erediti quindi è un guadagno va a sommarsi ai tuoi erediti quindi sì o meglio va in dichiarazione di erediti nel momento in cui tu hai il profitto attenzione quindi se tu stai investendo nel momento in cui investi ma non hai nessuna rendita per esempio compri un ETF ad accumulo tu non stai ricevendo niente quindi non sta aumentando il tuo reddito andrai a dichiarare che hai quell'ETF quando invece cominci ad avere un reddito aggiuntivo allora sì quello ti va in dichiarazione di erediti ovviamente o quando vendi con una plusvalenza su quella plusvalenza va in dichiarazione di erediti però quelli li paghi al 26% di tasse non sono un commercialista quindi non ti saprei dire qui in questo caso specifico che ti sei dato però sì però immagino che per avere la reversibilità non devi avere un guadagno che sopra un certo tetto probabilmente quindi quelli invece dipende quanto sono i tuoi guadagni ecco probabilmente immagino sia questo senti scusa c'è una domanda che è un po' il sunto di tutta la serata che immagino sia un po' da rispondere ma ecco il service dice i soldoni per avere una rendita quanto bisogna avere da investire negli anni magari così una cifra proprio di massima non lo so se è possibile darla secondo te è possibile darla per darla mi devi dire quanto spendi per vivere perché se tu spendi per vivere 500 euro al mese avrai bisogno di una cifra per fare un esempio una cifra a casa una cifra a casa se tu spendi per vivere 1000 euro al mese avrai bisogno del doppio di quella cifra quindi in funzione della tua cifra che appunto spendi per vivere hai bisogno di accumulare un certo capitale per farla in soldoni molto molto pratica con la regola del 25% che è molto banale però ti dà un ordine di grandezza tu sai che se il tuo annuo è di 10.000 euro perché sono spendi poco meno di 1000 euro al mese con quei 10.000 euro per avere quei 10.000 euro devi moltiplicarli ecco mi sto imbrogliando per 20 per avere il tuo capitale vabbè sono il 4% all'anno si il 4% all'anno si deve dare quindi sono 10.000 diviso 0.2 una cosa intorno ai 250.000 una cosa così dai sarà più o meno 10.000 diviso 0.04 250.000 euro ecco una persona si fa i suoi congi dice ok allora io posso partire con un capitale X che magari ce l'ho perché sono stato fortunato ho avuto un'eredità oppure e piano piano accumulo mettendo una buona parte del mio stipendio tanto grande quanto voglio prima raggiungere l'obiettivo giustamente e poi scelgo un ETF che mi dia un bilanciamento tra rischio e che posso sono in grado di sopportare e traguardo breve in base appunto alla mia propensione a rischio ti interessa poco nel senso che dato che quel capitale rimane investito a te interessa la rendita a quel punto anche per esempio come dicevamo prima un ETF sulle dividend aristocrats a te il fatto che questo ETF lateralizzi ovvero che il capitale non aumenti tanto nel tempo non ti importa relativamente tanto perché ti importa di più in quel caso la rendita chiaro chiaro e fate domande ragazzi se su questo argomento del ETF magari siete arrivati in ritardo e volete qualcosa a cui abbiamo già risposto ma fate domande in maniera molto libera non c'è nessun problema beh qui qualcuno fa conti va benissimo global world S&P gold sono il top per una buona diversificazione anche qui dipende sempre da quali sono i tuoi obiettivi quindi ti direi sì però se ti serve quindi un global world anche là bisogna sceglierlo perché nel global world puoi trovare diversi per esempio per farti un esempio molto pratico quando io ho comprato il mio ETF io gestisco il portafoglio quello sui turo che tra l'altro è un portafoglio che è pubblico potete andarlo a vedere si può anche copiare quello che vuoi lì ho inserito tre ETF uno l'ho preso sul mercato emergenti ma sui mercati emergenti e quando vai a prendere il global hai anche una parte di mercati emergenti ti interessano veramente tutti o solo alcuni di questi a me interessavano la Cina e l'India ma non mi interessava il Sudafrica il Brasile e così via quindi devi andare sempre a vedere poi all'interno ma cosa c'è dentro sono le aziende i settori che veramente mi interessano quindi in generale sì è giusto però poi bisogna un attimino andare a vedere cosa c'è dentro e capire con quali PC andare a bilanciare questi tre ETF in questo caso quindi in base a che obiettivi hai dare più peso a uno piuttosto che all'altro nel portafoglio allora rispondiamo rapidamente a questa domanda poi rispondiamo a quella di Araia questo domanda Antonio domanda se Toro fallisce mi domanda come possa fallire no ti lascio rispondere a te però sì normalmente anzi sul 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 tema fallimento più che il tema fallimento e anche sul si lega anche al tema che adesso è un po' di invuga o di muda della patrimoniale chiaro allora ne voglio parlare di tutte e due allora se fallisce le azioni come anche gli ETF sono a tuo nome quindi i Toro non ha le azioni a nome suo e qualsiasi non i Toro qualsiasi broker anche la banca custodisce le tue azioni ma le azioni sono a nome tuo se tu sei il proprietario di quell'azienda quindi se i Toro fallisce o la banca fallisce ti importa poco questo come si lega con la patrimoniale con i soldi tenuti sul conto corrente che se la banca fallisce e tu hai sul conto corrente più di 100.000 euro tu rispondi anche con i tuoi soldi ma se tu hai 200.000 euro in azioni non ti vengono a prendere quei soldi là se i 200.000 euro ce li hai liquidi sul conto te li vengono a prendere nel momento in cui la banca fallisce quindi non è un gran problema in realtà infatti però voleva rispondere perché immagino fosse una domanda è giusto perché è una cosa che non tutti sanno è una cosa e quindi facciamo una domanda di Araia che domanda cosa ne piace degli ETF a leva magari se dici cosa sono rapidamente perché non lo sa non abbiamo parlato sono un po' più cose un po' più leggermente più tecniche gli ETF a leva vuol dire che se la mia il mio indice se un ETF sull'indice l'S&P 500 sale dell'1% se il mio ETF ha una leva la leva può essere del 2 del 3 se la leva è 2 allora il mio ETF sale del doppio di quello che sale l'indice a me sale di 2 l'indice di 2 a me sale di 4 perché la leva è per 2 ovviamente aumentano i guadagni aumentano le perdite perché vale anche per le perdite e soprattutto aumentano i costi perché questo fatto di essere all'iva in realtà i soldi cioè li sta mettendo il broker ti sta prestando i soldi per comprare le quote di ETF che tu non hai comprato quindi ti aumentano i tuoi costi non te li presta gratis ovviamente va bene altre domande vediamo se c'è cosa di interessante Domenico ma pensavo che i toro vendesse certificati scusa la pubblico Domenico ma pensavo che i toro vendesse certificati e non azioni corretto? no nel senso che con i tour puoi comprare entrambi puoi comprare il certificate il 15FD ma io per esempio nel mio portafoglio non ne ho perché non sono uno strumento che uso è uno strumento che ha un costo anche notevole non è adatto a chi fa investimenti di lungo termine nel mio portafoglio sui tour ho solo azioni sottostanti reali quindi i tour ti dà la possibilità di fare entrambe le cose va bene sentite cosa facciamo ragazzi è un'oretta e mezza che chiacchieriamo sì dai un'oretta e venti vediamo se c'è qualche altra domanda mi sembra più che altro una discussione inter-utenza che sta avvenendo va bene sentite io credo che abbiamo raccontato appunto intanto si può cercare qualche altra domanda magari io ah ecco qua hai trovato qualcosa si può abbonare entrambi i vostri canali tramite Twitch Prime? purtroppo no devi scegliere devi scegliere a quale abbonarti e quindi perché sapete lo dico per chi è per chi è nuovo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi ai nostri canali Twitch con il bottone abbonati in basso a destra viola e non vi costa niente abbonarvi però noi arrivano 2,50 euro sono 5 euro ma poi alla fine si ne tiene nella metà Amazon quindi ci sono 2,50 euro è una miseria però se vi abbonate in tanti noi riusciamo a tirare avanti la baracca ecco e soprattutto è gratis per tutti quindi è un gesto gentile che fate e vi costa solo un po' di tempo però non potete abbonarvi e poi colgo l'occasione per dire è che chi si è abbonato i mesi scorsi questo lo dico anche per te Domenico che ti può interessare chi si è abbonato i mesi scorsi deve rinnovare l'abbonamento di mese in mese ed è sempre gratuito fin tanto che è Amazon Prime però se non si ricorda di rinnovarlo di mese in mese quindi di riabbonarsi non arriva la donazione a noi capite e però è sempre tutto gratis ecco cosa ne pensi del libro il piccolo libro dell'investitore di Google e degli ETF Vanguard questa l'ho stelzionata non perché ho letto il libro quindi non ti posso dire una un'opinione sul libro ma gli ETF della Vanguard sono tra i migliori ETF che ci sono sul mercato e sono tra gli ETF che hanno le commissioni più basse quindi prendere degli ETF quando dovete selezionare degli ETF andare su delle aziende come Vanguard o andare su delle aziende come BlackRock quindi gli ETF iShares state già selezionando delle aziende che sono top mondiali e quindi hanno i migliori prodotti e quindi sicuramente andare a selezionare già lì ti va a scremare tante tante società medio piccole che magari potete tranquillamente tralasciare perché tanto non è che serve andare a conoscere tutti gli ETF mondiali e tutte le società mondiali quindi sicuramente prodotti Vanguard e prodotti iShares sono tra i migliori va bene da quando hai smesso lavorare se eri ingiovanito ma in realtà sono andato dal barbiere erano due mesi che andavo dal barbiere quindi è semplicemente quello allora concluderei con qui no scusa no 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 fai tu perché io volevo fare un fai tu se il globale va giù si perde anche con ETF di ETF allora questo è importante perché l'ETF non è un prodotto magico l'ETF come diciamo ha un sottostante voi è il sottostante che dovete scegliere se il sottostante va bene l'ETF va bene se il sottostante va male l'ETF va male quindi non è che l'ETF vi risolve tutti i vostri problemi se questo non irà chiaro diciamo l'ETF vi agevola perché è un prodotto facile è un prodotto che vi dà tanta diversificazione in maniera veloce è un prodotto a bassissimo costo rispetto ai fondi e tutto quanto quindi ha tantissimi vantaggi ma non è un prodotto che crescerà sempre perché dipende dal sottostante che c'è chiaro dunque questo è interessante immagino Ferdinando ma se il gestore dell'ETF anche a replica fisica non facesse il suo lavoro come si deve e commettesse degli errori nel sistemare e ribilanciare le azioni in un ETF ad esempio globale potrebbe farci perdere tanto di rendimento allora questo lo andiamo a vedere con le performance passate dell'ETF per questo dicevo se un ETF ha un anno di vita tu non hai uno storico da valutare se l'ETF ha 5-10 anni di vita tu hai lo storico da valutare e puoi vedere se quell'ETF ha performato come l'indice meglio dell'indice o peggio dell'indice se ha performato meglio dell'indice non è detto che sia una cosa buona perché vuol dire che non ha replicato bene l'indice ci è andata per fortuna che lì è andato meglio lo poteva anche andare peggio quindi in realtà il migliore ETF è quello che ha replicato meglio l'indice quindi diciamo in generale però non sono stiamo tra virgolette guardando il capello non sono degli anche se la non conformità con l'indice fosse dell'1% cioè sul lungo sul lungo periodo non è che fa tutta questa grandizione non stiamo parlando che l'ETF fa più o meno 20 rispetto a quello che fa l'indice stiamo parlando di scarti dello 0,5 dell'1% quindi sì andiamo a valutarla ma non è il 20 non troveremo il 20% di scarto tra un ETF e il suo indice chiaro mostro solo questo scambio di battute tra Filippo e Giancarlo Filippo dice io vivo a Dubai ho appena comprato un vertacielo e invece Giancarlo risponde io vivo a Monaco ho appena comprato uno scantinato ecco volevo solo che avevamo fatto ridere prima mentre parlavi ci siamo trattenuti a stento però era divertente va bene non dimenticare l'ETC sul petrolio da non sottovalutare cosa vuol'ETC fondamentale perché l'ETC ed l'ETF sono due cose completamente diverse anche se analoghe e l'ETC sul petrolio non è un investimento anche qui milioni di critiche arriveranno ma siamo qui per farci criticare quindi pensavi di essere sul web per cosa scusa non che non ti dia del profitto che non ti possa dare del profitto e attenzione quindi l'ETC sul petrolio ti può dare del profitto l'ETC sul petrolio io replica fisica non ne conosco non credo che ci siano su una replica sintetica ovvero partiamo dall'inizio l'ETC è come l'ETF però riguarda le materie prime quindi se noi vogliamo comprare l'oro il platino la pancetta il grano il petrolio tutte le materie prime lo facciamo con gli ETC ok anche gli ETC hanno la differenza tra replica fisica e replica sintetica quindi l'ETF sull'oro posso l'ETC sull'oro posso trovare la replica fisica cioè io sto comprando l'oro fisico sotto quell'ETF o dei lingotti materiali d'oro detenuti in dei cavo ma normalmente per i prodotti deperibili come il petrolio come la pancetta come il grano come la farina e così via quelle ETC io sto comprando i certificati ok quindi non sto comprando la materia prima sto comprando i certificati quindi ho dei costi di gestione che sono leggermente superiori perché i certificati vanno rinnovati perché ogni scadono ogni tre mesi ogni sei mesi quindi questo mi provoca dei costi di rollover poi sto comprando una materia prima che vuol dire che io ci guadagno solo se quella materia prima la rivendo a un prezzo più alto ma quella materia prima non mi genera del valore il petrolio non genera valore non è come un'azienda che ogni anno io investo e il business cresce aumenta il fatturato aumentano gli utili quindi io genero del valore il petrolio no il petrolio lo ci ci vuole da guadagnare come anche loro ci vuole da guadagnare solo se trovo qualcuno che è disposto a comprarlo a un prezzo più alto ma non è che nel tempo aumenta di valore no se lo vediamo aumentare di valore perché c'è l'inflazione o perché per un periodo di tempo può aumentare di valore perché magari c'è richiesta poi capitano periodi dove non c'è richiesta come è successo qualche mese fa e va al prezzo sotto zero quindi investire su le materie prime normalmente non si chiamano investimenti si chiamano speculazioni anche qui non è un bene o un male ma semplicemente dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo sono due cose diverse va bene che dire dimmi tu se qua di domande c'è nessuno possiamo andare per sempre magari possiamo chiudere se no sì perché andiamo avanti tutta la notte poi tu sarai stanco io sono stanco e quindi dai ragazzi allora sentite sono stato molto contento di avere domenico questa sera qui e di essere anch'io sui suoi canali perché gli hanno fatto questa cosa ibrida un po' strana però è bello è bello è un bel modo per condividere anche gli spazi e siamo stati bene con voi è stata una bella live spero che domenico ne sono certo abbia dato appunto le informazioni che molte persone che avevano bisogno di conoscere questo mondo degli etf capire cosa sono come si comprano dove si guardano come si scegliono insomma un'infarinatura di partenza però abbastanza ampia ho visto spero sia arrivata quindi io credo che possiamo fermarci qui domenico ti lascio la parola se vuoi dire qualche una una frase conclusiva ci sono altri commenti altre cose magari venite a scrivere sotto nei commenti sul canale youtube perché io solitamente cerco di rispondere a tutti quindi scusate se avete altri dubbi e cose del genere commentate diciamo cerchiamo di rispondere assolutamente a tutti quanti senza nessun problema ricordatevi che domenico un canale youtube si chiama vivere di dividendi quindi c'ha tantissimi video sono molto interessanti molto bravo a spiegare quindi andate iscrivetevi tutti e niente ragazzi che dire con le live mie ci vediamo giovedì giovedì sera e e quindi basta quindi buonanotte buonanotte a tutti grazie a tutti è stato molto molto bello a me è piaciuto è stata una bella una bella discussione spero anche per voi ci siamo divertiti molto sicuramente buonanotte carissimi amici e a presto ciao ciao a tutti grazie 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 a tutti